C'è Andrei Cheltinco, ho italianizzato un po', d'altronde ho già detto durante la telecronica che il mio russo non è nulla di buono, o meglio il russo non posso proprio parlare. Domanda invece come è trovata la gente qui all'Agropoli? Ma come si vogliono stare da Agropoli? Ma come si vogliono stare da Agropoli? Parla come si, poi è come voi, poi è come, noi invece...